Siamo a Sant'Ippolito per l'evento Scolpire in Piazza, quest'anno alla quindicesima edizione con noi c'è Mara Ferri, Presidente della Proloco. L'evoluzione in questi 15 anni, Mara, ne abbiamo viste tante, è vero? Ne abbiamo viste tante di partecipazione a livello artistico, a livello di personaggi, a livello di persone, di collaborazioni. Questa quindicesima manifestazione edizione si caratterizza per la prima volta intanto per la presenza di tre scoltori, tutti e tre provenienti dall'estero, esattamente dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Spagna. In più l'impostazione dell'opera scultoria è stata predisposta non su un blocco unico di pietra renaria ma per la prima volta su tre blocchi distinti e separati, collegati tra loro con altri materiali. Questo per tutti e tre gli artisti? Questa è già un'evoluzione, c'è un percorso dove la tradizione della lavorazione della pietra renaria si incontra con la modernità della lavorazione. I tre pezzi saranno assemblati anche con materiali diversi dalla pietra, quindi è un segnale che protende le proprie mani verso la modernità. Quindi passato e moderno puntualmente si incrociano. Anche anno scorso qualcuno univa al metallo? Quest'anno proprio è stato suggerito a tutti e tre i partecipanti al simposio. Accanto a questo ovviamente nel laboratorio di scultura gli ospiti che verranno a visitarci potranno trovare proprio un cantiere allargato, allargato ai ragazzi del progetto scolastico che persevera nel portare avanti questo progetto nonostante le difficoltà della scuola per la lavorazione della pietra renaria rivolta ai ragazzini delle medie e non solo, la proloca ha portato avanti come fa da anni il ventiduesimo corso di lavorazione di pietra renaria rivolto agli appassionati e dilettanti e quindi proponendo corsi serali. Quindi in un cantiere unico vedremo artisti a tutto tondo, scultori di fama nazionale e internazionale affiancati a scultori amatoriali e ai bambini delle scuole medie. Allora, scolpire in piazza un po' si differenzia dalle altre feste perché non c'è la solita sagra tipo poi l'orchestrina che si balla al liscio, ci sono dei gruppi particolari, degli artisti ricercati una cosa un po' più ricercata, quasi di nicchia, molto molto bella. Chi c'è quest'anno in particolare? Come abbiamo dire, l'arte si esplica e si esterna non solo sulla pietra ma si esterna anche a livello di ricezione turistica quindi a livello gastronomico innanzitutto perché anche i menù proposti sono una scelta artistica quindi elaborati e studiati seguendo anche un po' quelli che sono i canoni della tradizione locale. Le scelte artistiche, come dicevi tu Sonia, sono di nicchia in quanto si scelgono sempre artisti, si cambiano ogni anno quest'anno ritroviamo comunque un gruppo che ha avuto grande successo, quello dei Cialtrontrio domani sera avremo gli Obelisco, a tutti i noti anche nelle nostre zone e la presenza anche di uno show che potremmo dire è un'evoluzione in aria infatti si tratta di uno spettacolo legato alla tradizione degli artisti di strada la ragazza che propone Chiara Vitale proviene dalla scuola famosa di Torino, unica in Italia fra l'altro e farà dell'evoluzione a suon di tango argentino sospese in una struttura in aria quindi sempre proposte particolari di nicchia con una cura particolare per ciò che caratterizza le rende un pochino diverso tutto l'intrattenimento e mi piace ricordare i tre maestri scalpellini che spongono le loro opere Natalia Gasparucci, Dario Battistoni, Filippo Ferri ma non sono da meno le ceramiche d'autore di Gloria Villanelli le foto artistiche di Ilenia abbiamo poi le foto di Marco Michelini quest'anno abbiamo la presenza anche di un altro artista che ha origini qua nel nostro territorio Bugarin con opere e anche a livello letterario spero e credo di non aver dimenticato nessuno poi abbiamo probabilmente altri produttori di prodotti locali che vedremo appunto quindi la riscoperta di Sant'Ippolito, del castello di Sant'Ippolito che è stato ristrutturato in questi ultimi anni è sempre più bello perché molta gente viene a vivere qua e quindi non possiamo che sperare in un tempo che sia clemente come lo è sempre stato ma che è al di sopra di ogni volontà umana la volontà umana è messa al servizio con un numero stragrande di volontari ai quali io rivolgo sempre un affettuoso e profondissimo grazie perché senza i volontari di questo paese non riusciremo a fare nulla volontari che arrivano da qualsiasi ambito, ceto, partito, fazione e famiglia ma sono tutti dediti alla buona riuscita della manifestazione e a loro un grazie profondo Quest'anno come gli altri anni le posate tutto riciclato? Allora dall'anno scorso è possibile poter differentiare anche la plastica quindi essendo anche in tempi di magra dove dobbiamo fare attenzione anche ai costi utilizziamo plastica ma c'è un sistema di differenziata particolare e molto attento cioè tutti i nostri lavoratori e aiutanti sanno poi che dovranno disporre tutto ciò che ritornerà indietro quindi dai tavoli eccetera in maniera differenziata e quindi rispettosa per l'ambiente Bene, un'attenzione all'ambiente, all'arte, Sant'Ippolito troviamo tutto Grazie Mara Grazie Sonia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti